Un grande successo è la presentazione del tuo libro di poesie, istanti, attimi di emozioni, attimi del tuo vissuto, ricco di emozioni, una storia bellissima. Devo dire che sono rimasto veramente molto lusingato dalla presenza di tutta questa gente, non pensavo di suscitare tutto questo interesse e mi auguro di poter fare meglio la prossima volta, nella seconda edizione, che credo sostanzialmente potrebbe avvenire fra 4-5 mesi, perché c'è già una raccolta di poesie che doveva essere inserita in un testo e che poi abbiamo preferito anche con la casa editrice di non introdurre tutto in un solo testo, perché sarebbe venuto molto pesante. E quindi mi auguro di fare meglio la prossima volta, anche se sono rimasto soddisfattissimo. Parole di elogio del preside Scarsi, di Vittoriano Abbate, hai suscitato veramente delle grandi emozioni attraverso questi versi che hanno una grande musicalità. Sì, infatti non mi aspettavo che sia la professoressa Scarsi, che il preside Scarsi ne avessero queste belle parole nei miei confronti, anche se avevo già avuto un'anticipazione anche da altri addetti ai lavori, che era piaciuto il libro e quindi questo mi gratifica molto. Significa che il lavoro svolto è stato svolto non a caso. Stasera quindi abbiamo consacrato ufficialmente Lello Esposito, medico poeta. Beh, questo lo dite voi, non lo dico io.